Ciao, sono David Cardano, mi occupo di psicologia, cancelling, coaching, mental training e con questo video voglio parlarti della finestra di Ohari che è un argomento molto interessante nel grande ambito della comunicazione. Con questo video voglio farti capire e conoscere quanto la comunicazione sia complessa e talvolta nascosta anche al comunicatore stesso. Abbiamo quattro quadranti, vediamo in alto a sinistra con il numero 1 il quadrante aperto, in alto a destra con il numero 2 il quadrante cieco, in basso a sinistra con il numero 3 il quadrante segreto e sul lato destro in basso il quadrante numero 4 con ignoto. Introduzione, sebbene il nostro modo di comunicare riveli moltissimo dei nostri pensieri e sensazioni, quindi quando si comunica noi regaliamo a chi ci ascolta moltissime informazioni sulla nostra persona, credenze, convinzioni, valori, punti di vista, mappa mentale, però può succedere che si possa nascondere a noi stessi pensieri e sensazioni in modalità talvolta anche non cosciente. Andiamo al primo quadrante. Il primo quadrante, in alto a sinistra, riguarda la sfera pubblica della personalità, quindi atteggiamenti e comportamenti che il soggetto assume consapevolmente e di cui anche gli altri sono al corrente. Torniamo alla nostra finestra, quindi significa che la comunicazione è definita aperta perché è nota a colui che comunica ed è anche noto agli altri che lo ascoltano, quindi è un circolo di condivisione nota a ricevente ed emittente. Siamo quindi di fronte a questa area comunicativa definita nella finestra di area aperta dove circolano liberamente i messaggi che l'individuo conosce ed è disposto a comunicare e ovviamente sono noti anche agli altri, quindi una fase di comunicazione aperta e molto efficace. Ma passiamo alla fase numero due, il secondo quadrante. Questo quadrante riguarda il caso in cui nascondiamo noi che siamo i comunicatori, noi che emettiamo il messaggio, nascondiamo alcune verità anche a noi stessi, cioè siamo tra virgolette ciechi. Ma queste cose che noi nascondiamo, quelle cose che noi non diciamo, possono risultare però evidenti agli altri, quindi gli altri invece si accorgono che ci sono delle cose che omettiamo o che non corrispondono la realtà. Torniamo al nostro grafico dove andiamo a vedere che questa comunicazione è definita cieca perché non è nota a noi che comunichiamo ma ne hanno presenza e consapevolezza agli altri. Quindi immaginate che magari una persona non si rende conto attraverso la comunicazione, i suoi comportamenti, di avere un atteggiamento legato a certi tratti di personalità ma invece è noto agli altri. Quando noi diciamo ma non si accorge che è la persona ovviamente che invece sta parlando non è al corrente di questo. Passiamo alla fase numero tre, la finestra numero tre, quando è segreto. E qua è interessante perché quando il discorso assume la caratteristica di segreto siamo nella terza area che riguarda la capacità dell'individuo e questo è molto ricorrente di simulare, inibire, mascherare alcuni nostri comportamenti, le caratteristiche che ci riguardano, alcuni elementi che noi non vogliamo che gli altri percepiscono. Questo è il momento in cui noi ci magari magari ci presentiamo agli altri con un vestito che non è il nostro per fare bella figura, per apparire in un certo modo ma in realtà è una finzione e quindi tornando al nostro grafico vediamo che siamo in una condizione dove noi sappiamo che stiamo dicendo delle cose non vere o che stiamo nascondendo qualcosa mentre invece gli altri non lo sanno e quindi sono da noi o manipolati o ingannati o prendono comunque percezione di una realtà distorta. Arriviamo al punto quattro che forse è quello più particolare, ignoto. Perché? Perché in questo ultimo quadrante ci troviamo in una sorta di fenomenologia che è molto particolare. I fenomeni che ci riguardano rimangono ignoti sia a noi che alle persone che ci circondano, quindi ci sono delle fasi nella comunicazione che non sono note né all'emittente e né al ricevente, quindi siamo in questa fase di totale oscurità definita da Yoari ignoto. Ricapitoliamo. Primo quadrante è noto a chi comunica ma non è noto agli altri. Secondo quadrante non è noto a chi comunica ma invece è noto a chi riceve la comunicazione, al ricevente. Terzo quadrante il soggetto è cosciente di stare nascondendo qualcosa, colui che comunica è cosciente, il ricevente non è al corrente, viene manipolato o deviato. Quarto quadrante sia il comunicatore che il ricevente sono in fase di ignoto, non sanno entrambe ciò che sta accadendo durante la comunicazione. Con questo esempio di finestre di Yoari spero di avere aperto nuovi orizzonti, nuove visioni. Anche questo è un argomento ben spiegato durante il percorso di Mental Training Academy che è la scuola di formazione per mental trainer e mental coach professionisti da me tenuta presso lo studio che ho a tradate. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto risentirci.